Cesena Spurghi. Dal 1992 operiamo nel comprensorio di Cesena, affrontando le problematiche legate alla salvaguardia e al rispetto dell'ambiente. Grazie all'utilizzo di nuovi macchinari, tecnologie sempre all'avanguardia, manodopera specializzata in grado di fornire la massima professionalità, siamo una delle aziende più qualificate nel settore Spurghi. Tutti i nostri servizi e le manutenzioni del settore ecologico rispondono a canoni qualitativi garantiti. Mettiamo a disposizione dei nostri clienti una vasta gamma di macchinari adeguata a qualsiasi tipo di intervento civile ed industriale. Utilizziamo prodotti specifici con i quali assicuriamo il massimo dell'igiene e del rispetto ambientale.